Elvio Lombardi, difensore del Trivento, è arrivata questa vittoria di misura, sofferta ma tanto importante dopo una sconfitta. Era importante fare i tre punti e credo ci siamo riusciti alla meglio. Il primo tempo forse loro un po' meglio di noi, il secondo tempo siamo riusciti a creare qualche occasione in più. Ed è stato questo merito di tutto il gruppo e di quello che ci siamo detti in settimana. Una squadra che anche dopo il vantaggio ha saputo abbassarsi, ha saputo soffrire e portare a casa il risultato. Quindi questa vittoria magari dà uno slancio ulteriore per chiudere bene il giro d'andata e pensare anche a obiettivi importanti. Sì, hai detto bene. Questa è una vittoria su un campo difficile che ci rilancerà in casa contro un'altra bella squadra e un'altra battaglia. In ultimo, una considerazione in generale sul campionato. Ormai l'avete affrontata tutte. Qual è il tuo giudizio in generale sul torneo? Sicuramente rispetto all'anno scorso è molto più livellato a metà classifica rispetto all'anno scorso medio-alta classifica. Speriamo di fare un bel campionato e stare lì insieme alle prime.